Ciao a tutti, io mi chiamo Antonino, sono disoccupato da un bel po' di tempo, perché prima magari qualche lavoro più saltuario, magari ho avuto possibilità di fare qualcosina da due anni qua invece è decisamente difficile trovare un lavoro anche saltuario, anche magari di poche ore magari. Io sono venuta più di tre anni fa qua, dopo un incidente, posso dire che qua ho trovato un appoggio più sicuro che il mio paese non lo potevo trovare. La mia storia è molto semplice, l'unico appoggio che ho è la carica, mi ha dato una mano veramente concreta, la spesa, tutte queste robe qua. Da due anni sto facendo questo progetto che recuperiamoci. Mi occupo di recuperare quello che mi danno nei negozi, il pane, la pizza e poi porto nei dormitori e poi anche qui alla mensa. Almeno per me posso dire che è un buon aiuto che da sola non potevo sistemarmi. Solo chi poi entra magari in una situazione così può veramente capire a cosa serve la Caritas, diciamo. Io sento sempre di dirmi che quando c'è un aiuto è una cosa buona e bisogna sempre accettarlo l'aiuto, perché l'aiuto è quello che aiuta veramente, però il concreto delle parole non posso vivere di parole.